Come si può garantire il benessere etologico di un animale? Questo tipo di relazioni consentono all'animale di essere libero? Abbiamo visto di sì, perché sono gli stessi animali a cercare l'uomo, quindi l'animale non è costretto a relazionarsi con l'uomo, ma è lui che lo cerca per interagire. Adesso ne parliamo con Gianni Mattiolo e parleremo anche di conservazione. Gianni, è vero o no che questi animali cercano loro stessi l'uomo? Non sono costretti da voi? Assolutamente, quello che è sempre stato il mio segreto e oltretutto poi ho scoperto parlando con eminenti addestratori estremamente anche importanti per quanto riguarda addestramento alle cure veterinarie, negli zoo eccetera, quindi anche precursori in un certo senso, noi partiamo dal punto, noi partiamo da un presupposto di lasciare la libertà totale all'animale. L'animale può interagire o non interagire a sua volontà. Ora, quello che a me fa ridere spesso e volentieri è questo, cioè l'interazione perché è volontaria dell'animale. Per esempio c'è il fatto che al 90% delle volte questa interazione non è altro che una messa in atto di comportamenti che direttamente o indirettamente vengono premiati. Quindi, al di là di tutto, che cosa c'è? C'è una base di addestramento in tutto. Cosa voglio dire? Voglio dire che quando questa tigre, ad esempio che è qua, lei si chiama Sofì, viene da me, due sono le cose. O può ricevere la carezza, la coccola o comunque un qualche cosa che le fa piacere o riceve dalla carne che le fa piacere lo stesso. E allora vieni qua. Sofì, 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 cos'è successo qua? Cos'è successo? Ecco, ora chiaramente questo fa piacere all'animale. È chiaro che se l'animale non vuole essere toccato non si avvicina. Ma se l'animale vuole essere toccato o perlomeno ha piacere nel ricevere quelle coccole si avvicinerà. Ma questo succede anche in natura. In natura normalmente il leone che cosa fa? Va e cerca di andare o cerca di seguire quelle che sono le piste delle loro prede perché per il semplice fatto che sa che lì trova da mangiare. E questo porta un rinforzo di tipo positivo primario all'animale stesso. Oltre che chiaramente costituire quella che è una forma di sostentamento. Vedete, adesso lei è lì tranquilla, assolutamente rilassata, nessun problema. Se io la chiamo, lei sa che io ho un pezzo di carne oppure delle coccole. Adesso non la chiamo perché non ce n'è bisogno, ma posso farlo. Quindi meccanismi a retroazione positiva perché in termini etologici e fisiologici parliamo di meccanismi a feedback a retroazione positiva non coinvolgono soltanto la sfera alimentare perché quando si parla di addestramento siamo tutti molto propensi ad associare il bocconcino all'azione dell'animale che è una concezione molto pavoliana se vogliamo. In realtà va a investire anche la componente emotiva, quindi questi animali trovano soddisfazione anche dal punto di vista emotivo. Gianni, io con te però volevo parlare anche di un altro argomento, ovvero della conservazione. Sai che negli ultimi anni si parla tantissimo di conservazione e meno male perché effettivamente ci sono un sacco di specie che rischiano di estinguersi a causa soprattutto dell'antropomorfizzazione dell'ambiente naturale. Una struttura di questo tipo, quale contributo può dare? Perché abbiamo visto con Giacomo che non stiamo parlando di animali uguali ai propri conspecifici liberi in natura né dal punto di vista etologico né dal punto di vista genetico. Ecco, una struttura di questo tipo che cosa può fare per la conservazione? Uno dei problemi principali, reali, della conservazione, al di là del cacciatore o del bracconiere che va e che spara al soggetto a meno che non si parli di specie che sono rimaste in 30 esemplari, allora liberamente l'uccisione di un soggetto è un danno. Uno dei problemi principali è che ad oggi le conservazioni sono state fatte in maniera molto pedestre, ovvero prendiamo un'area, la chiudiamo e nel momento in cui la chiudiamo circoscriviamo quel gruppo di animali che noi vorremmo conservare, ma in realtà che cosa facciamo? Se non creiamo degli sbocchi nei corridoi attraverso le quali questi animali possono poi avere contatto con altri animali della stessa specie non facciamo altro che impoverire quello che è il pool genetico. Ora, non sono io che dico queste cose, sono cose che sono descritte in importanti libri seri e reali e non sono nemmeno io che mi invento il fatto che oggigiorno se si va in Sudafrica gli animali, soprattutto i leoni, stanno morendo di tibicifelina quando la tibicifelina c'è sempre stata. Diciamo che ragionando anche in maniera molto molto semplice questo ci porta a pensare che probabilmente i leoni di adesso sono molto meno resistenti alla tibicifelina dei leoni di 50 anni fa. Ne viene fuori che cosa? Ne viene fuori che se si ha a che fare, e ripeto, se si ha a che fare con delle strutture serie e con strutture che tengono veramente al sangue e alle linee genetiche quello che va a succedere è che il cucciolo che nasce qua viene scambiato con il cucciolo che nasce in Australia il cucciolo che nasce in Australia viene scambiato con il cucciolo che nasce a Londra e in questa maniera innanzitutto si può avere sempre un materiale genetico estremamente più vario e sicuramente molto più forte rispetto a situazioni in cui invece gli animali vengono per questioni anche tecniche rinchiusi in aree che non hanno sbocchi di contatto con altri gruppi della stessa specie. C'è poi un'altra cosa da dire sul quale io poi spenderei delle parole perché questo voler per forza ricercare la natura in situazioni che a mio parere sono già di per sé non naturali non ha senso in quanto io posso anche evitare di avvicinare questa tigre o di addestrare questa tigre a delle cure mediche cosa che peraltro le ASA per esempio fa normalmente però il problema qual è è che anche negli zoo è presente questo tipo di addestramento cioè proprio per facilitare l'interazione tra medici veterinari e ricercatori assolutamente negli zoo seri sì ma infatti diciamo che soprattutto poi gli zoo all'estero hanno iniziato molto tempo fa noi lo dico con un pizzico di orgoglio anche perché siamo stati all'inizio molto derisi abbiamo cercato di portare questo tipo di visione quello che a me dà un po' fastidio che cos'è è che in realtà si persegue una naturalità che non c'è perché nella maggior parte dei parchi anzi probabilmente penso sia al 100% è difficile vedere un recinto grande o piccolo con una tigre vedi un recinto con più tigri ma le tigri sono animali solitari punto uno e già di per sé questo non è positivo secondo un animale per quanto in cattività qualche cosa deve fare perché in natura è vero che ha un grosso periodo di riposo però poi ha anche un periodo di attività e questa attività da che cosa viene data? non certo da due massi messe in croce o dal tempio indiano posizionato a caso perché? perché noi sappiamo benissimo che il salto o qualsiasi tipo di attività soprattutto per quello che riguarda i grandi felini deve avere delle finalità cioè un animale non andrà mai a sprecare energie se da queste energie non porta a casa qualcosa che a lui interessa e ritorniamo nel discorso che abbiamo fatto prima la regola di parsimonia delle energie di cui facciamo accenno prima un predatore perché dorme tanto? lo ripeto la questione è che molte persone chiedono se questi grandi felini nelle strutture pubbliche o private siano sedati assolutamente no perché non è possibile da un punto di vista fisiologico mantenere a lungo un animale sedato ma è semplicemente per la regola del predatore il predatore sa che non deve sprecare le proprie energie nel momento in cui non ha il target e quindi non ha la necessità di andare a predare gli animali questa necessità viene meno e quindi per la regola di parsimonia energetica il felino mantiene questa attività giornaliera che è composta da tante ore di sonno tuttavia come ci dice Gianni parte di questi comportamenti va reindirizzata, va comunque impegnata sì perché comunque l'animale in ogni caso fisiologicamente parlando ha bisogno per un tot di tempo al giorno di essere impegnato ecco perché l'addestramento in realtà è un qualche... o l'addestramento o perlomeno la sollecitazione al rapporto con l'uomo in completa libertà quindi questo significa che è l'animale che sceglie ha comunque dei valori notevoli la terza cosa è anche riguardo proprio alla struttura zoo in sé per sé perché io dico che purtroppo per una questione commerciale qualunque zoo al mondo, anche il più bello, anche il più buono ha un difetto il difetto di mettere in contatto questi animali visivo con bambini che sono potenziali prede oltretutto molto ambite dal punto di vista proprio felino se si parla chiaramente dei tigri bambini che corrono, rumori eccetera eccetera che tecnicamente non appartengono alla vita di un animale allora ne viene fuori che cosa? ne viene fuori che perché ci dimentichiamo di queste cose qua e poi trattiamo l'animale come se dovesse rientrare domani in una giungla o in una savana questo mi fa ridere mi fa ridere anche perché a mio parere questi animali comunque hanno bisogno di sviluppare hanno bisogno di sviluppare un rapporto con l'essere umano eccetera perché provengono da una serie di anni di cattività per cui il rapporto con l'essere umano volentemente c'è ecco ne parlavamo prima con Giacomo il fatto che appunto da un certo punto di vista pur con tutte le parsimonie del caso nell'usare questi aggettivi che non hanno diciamo una connotazione molto scientifica permanente però da un certo punto di vista guardando quelle che sono le caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali stiamo parlando di fatto di animali domestici perché sono frutto di centinaia di anni di selezione artificiale in ambiente domestico Pierluca io ti dico una cosa io sono forse, non dico un passo avanti non dal punto di vista qualitativo ma un passo avanti forse dal punto di vista di mie illusioni però io sono dell'avviso che non esistano animali domestici io sono dell'avviso che esistano degli animali con delle necessità tipiche della specie e se queste necessità vengono ampliamente soddisfatte automaticamente il rapporto con l'essere umano può esistere ne viene fuori che cosa? Che ad oggi probabilmente forse ma forse perché poi la realtà ci smentisce e ci ha smentito più di una volta allora ci sono animali che hanno delle necessità che sono più simili a quelle dell'uomo o che sono più intuibili da parte dell'uomo allora per questo vengono chiamati domertici ma in realtà non è così perché ti posso dire che dopo 23 anni che ho a che fare con i grandi felini ho ancora 5 dita per mano poi ti farò vedere il tipo di rapporto che c'è ma perché? Non è perché c'è un atto di magia dietro a tutto questo questi risultati sono venuti fuori per il semplice fatto che accetto la tigre per quella che è la tigre è un animale di un'estrema dolcezza di un'estrema tranquillità ma la stessa tigre fra due ore, fra quattro ore, quando mangia è un animale che non mi permette e non mi permetterà di starle vicino punto motivo per cui io non le starò vicino nel momento in cui io vado a rompere questa necessità del carnivoro automaticamente metto me stesso in pericolo ma questo non significa che l'animale non è domestico significa che io non ho rispettato le necessità dell'animale io normalmente quando faccio il giro dico sempre se noi prendiamo un cavallo, lo portiamo in casa e decidiamo di trattarlo come un cane prima o poi da quel cavallo ci prenderemo un calcio il calcio ci potrà anche mandare al creatore ma non siamo andati al creatore perché abbiamo avuto a che fare con un animale selvatico siamo andati al creatore perché abbiamo avuto a che fare con un animale e lo abbiamo trattato come un altro animale purtroppo noi sentiamo sempre dire è come un cane, è come un gatto allora Gianni se sei d'accordo io vorrei far vedere ai follower di canale Etologia come questa interazione può arrivare addirittura a permetterti di essere parte di una famiglia guardiamo insieme assolutamente, oltretutto parte e da qui si arriva a capire anche l'influenza etologica che le generazioni di cattività hanno avuto in passato per il semplice fatto che qui stiamo parlando, a differenza di un leone, di un animale che è solitario quindi è ancora meno incline cioè se io stessi con un leone o perlomeno in un gruppo di leoni parleremo di animali che sono dal punto di vista proprio etologico sociali mentre invece qui parliamo di un animale che è solitario quindi un animale solitario ancora di più non dovrebbe permettere la presenza di un qualcuno e se questo qualcuno gli dà fastidio un animale come questo non farebbe fatica a fargli capire che se non altro quantomeno non è nel posto giusto al momento giusto o al momento sbagliato adesso datemi un secondo la dicerunga su quelle che sono le generazioni in cattività che questi animali ormai hanno alle spalle e la dicerunga anche su un rapporto di fiducia ma non fiducia umana fiducia esperienziale che ha nel senso che come dicevo prima non si parla di un concetto antropomorfico ma si parla di un concetto che è dato dalle migliaia di volte in cui la mamma in questo caso ha avuto contatto con me e questo contatto è risultato essere positivo motivo per cui la mia figura rientra nella sua esperienzialità come una figura positiva e quindi di cui non doversi preoccupare ecco Gianni è una cosa molto interessante quella che hai detto che sai che negli ultimi anni si abbandona sempre un pochino di più quello che è il determinismo genetico cioè quello che i genitori trasmettono alla prole è unicamente frutto di tutta una serie di sequenze genotipiche eccetera eccetera si fa attenzione invece all'epigenetica cioè al fatto che alcune esperienze etologiche e comportamentali possono essere tramandate di generazione in generazione fino quasi a fissarsi nel DNA quindi secondo te ti chiedo io almeno la penso un po' così questo tipo di animali siccome sono stati allevati da tantissimo tempo in ambiente domestico forse da un punto di vista epigenetico l'abitudine a interagire con l'uomo è stato addirittura tramandato di generazione in generazione come se fosse una caratteristica genetica tal quale cosa ne pensi? sì anche se io non la riferirei alla relazione con l'uomo in sé per sé ma la riferirei proprio alla loro vita nel senso che questi sono animali che a differenza dei loro antenati non vivono più di angosce, paure eccetera noi sappiamo benissimo che la vita in natura è una vita estremamente difficile è una vita fatta di intanto innanzitutto spesso e volentieri stenti perché la fame è quella che domina e la fame diventa quell'esigenza primaria da soddisfare e questa fame però poi è condizionata da che cosa? da paure relative alla sopravvivenza cioè la tigre si guarda a destra, si guarda a sinistra eccetera perché ha paura che venga l'uomo perché ha paura che venga qualcosa cioè ha una vita che sicuramente è estremamente meno sicura animali di questo genere qua che hanno appunto 2000 anni di generazione e cattività alle spalle ormai sono animali che non si guardano più le spalle nella stessa maniera certo sicuramente un minimo di incertezza ce l'hanno però vivono una vita prettamente più tranquilla e più rilassata non è un caso che lo spam di vita di un grande felino in cattività è più alto perché l'animale comunque è estremamente più tranquillo io dico sempre però che la cattività ha un grosso problema ed è un problema che pochi hanno a mio parere sono riusciti a individuare cioè il fatto che è vero che ad esempio per quello che riguarda la necessità di un grande felino un grande felino ha la possibilità di dormire, di mangiare e anche di accoppiarsi senza grossissimi sforzi ma è anche vero che quelle tre ore di impegno psicologico che comunque l'animale ha ogni giorno o ogni due o tre giorni insomma in natura eccetera in cattività non ce l'ha e a mio parere spesso e volentieri soprattutto nelle strutture italiane questa parola che era arricchimento ambientale doveva in un certo senso doveva avere un alibi un attimino un po' troppo ampio nel senso che l'arricchimento ambientale sì può dare sicuramente aiuto però nel momento in cui si piazzano quattro massi o si mette una foresta ma l'animale non ha niente da cercare nella foresta a quel punto lì è difficile che l'animale dopo i primi due o tre giorni divertiamoci così perché è cambiato qualche cosa poi in realtà sfrutti l'arricchimento ambientale per quello che dovrebbe essere motivo per cui o si dà la vera finalità che è quella della caccia o se no bisogna supplire con invece un'interazione anche qui finalizzata comunque a cibo particolare oppure a benessere fisico che può essere la carezza o altro senti Gianni concludiamo con una battuta che mi sta particolarmente a cuore ti faccio una domanda allora senti secondo te come mai da un punto di vista mediatico c'è tantissima attenzione nei confronti di questo tipo di animali quindi grandi felini ma pensiamo anche ad animali completamente diversi come gli elefanti, le giraffe eccetera e invece dall'altra parte abbiamo una miriade di specie animali che sono in pericolo di estinzione gravissima anche sul territorio naturale e che non vengono lontanamente presi in considerazione penso a specie di pesci piuttosto che a specie di uccelli addirittura alcune specie di queste non sono neanche presi in considerazione dalla legislazione nazionale secondo te perché? questa è una domanda molto provocatoria perché per il semplice fatto che oggigiorno si è sviluppato un circuito parallelo economico intorno a questi animali tale per cui per cui diciamo così è molto più è molto più interessante salvare salvare la tigre o salvare il leone piuttosto che andare a salvare l'animale che non vediamo non conosciamo non è stato reso famoso né da Walt Disney né da registi di pseudo leone bianco facendo riferimento all'ultimo caso e all'ultima stupidaggine che è venuta fuori perché io personalmente la reputo quel film estremamente negativo e perché come dico purtroppo dietro dietro agli animali sappiamo benissimo che ci sono movimenti di interessi e movimenti politici enormi e da qui poi e da qui poi scatturisce scatturisce la risposta insomma quando una cosa non interessa non si fa ti ho fatto apposta questa domanda allora Gianni vieni dentro vieni un secondo vediamo se riusciamo ad avvicinarci per ancora certe risposta ok vieni qui vieni qui vieni qui più scelta di così non penso che si possa unire un altro rapporto bellissimo che Gianni ha con uno dei felini presenti al Tiger Experience lui è Viper? Viper ha 18 anni 18 anni quindi non è più un giovincello che cosa ci racconti di Viper? Viper per esempio è arrivato a casa mia che non è stato cresciuto da me è un animale che aveva ecco vedi questo è il classico comportamento lui si mette così perché a lui piace molto essere massaggiato sulla schiena ma questo è un rinforzo positivo secondario cioè è un gergo tecnico è chiaro che io per lui non è che lui mi vuole bene mi vuole bene perché io rappresento per lui papà mamma o quello che è mi vuole bene perché quando io entro gli faccio il suo massaggio e comunque gli porto qualcosa di positivo e qualsiasi creatura che sia in natura o che sia in cattività tende a migliorare sempre la sua situazione perseguendo qualcosa di positivo quindi mi fa ridere mi fa ridere quando sento dire quando sento dire che l'uomo è negativo oppure che l'animale deve rimanere cioè l'animale per suo per suo stato tende a perseguire come noi umani come qualsiasi essere vivente tende a perseguire del positivo ne viene fuori che se si trova bene con l'uomo scegli di stare con l'uomo se non si trova bene con l'uomo va via scappa molto semplicemente esatto rifugia perfetto grazie Gianni noi ti ringraziamo per questa grande opportunità è veramente una lezione di etologia di zoologia insomma condensata è davvero molto molto utile se si vuole comprendere appieno la struttura comportamentale non soltanto di questo tipo di animali ma di tutti gli animali e quindi siamo molto grati a Gianni al Tiger Experience con il quale ho l'onore di collaborare già da un po' di tempo torneremo sicuramente a trovarti vi aspetto siete sempre grazie a tutti grazie a tutti Autore dei sovrapposti